Buonasera, la conversazione a tavola. E ora parliamo di politica e religione. Quale partito voti? Io voto per... Sei di destra o di sinistra? Ora, io sono di... Di che religione sei? Ok. In Italia la grande maggioranza della popolazione è di religione cattolica. Una minoranza appartiene ad altre religioni. Quindi si fanno delle domande di altro tipo. Per esempio quella che vi vado a offrire. Io del Papa penso che, data la situazione della Chiesa a livello mondiale, stia trattando bene i temi di... Dato il contesto globale e in Italia delle diverse popolazioni e dei flussi migratori, io penso che il Papa stia.